Uno studio del Census Conf Cooperative pubblicato recentemente e effettuato sugli ultimi dati disponibili sull'occupazione, cioè quelli tra il 2012 e il 2015, ha evidenziato che il lavoro regolare si è ridotto del 2,1%, mentre quello irregolare è aumentato del 6,3%, portando così a oltre 3.300.000 i lavoratori che vivono in questo cono d'ombra non monitorato. Secondo la Commissione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale contributiva istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il salario medio-orario sostenuto dalle imprese per retribuire un lavoratore regolare dipendente è di circa 16 euro, mentre quello pagato per un lavoratore regolare è di 8,1 euro, cioè la metà, dato che porta il monte salariale regolare ad un valore che supera il 6% del valore complessivo delle retribuzioni lourde. Questi dati allarmanti hanno fatto sì che scattasse anche in Calabria una vasta attività ispettiva nel settore dei cantieri edili e finalizzata al contrasto del lavoro nero e dalla verifica della corretta applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, spesso alla base delle troppe morti bianche. Nel Vibonese, l'Ispettorato interregionale del lavoro di Napoli e quello territoriale di Vibo Valenza, il nucleo operativo del gruppo tutela di lavoro di Napoli con i colleghi del nucleo carabinieri dell'Ispettorato del lavoro di Vibo Valenza, hanno effettuato tutta una serie di controlli in alcuni cantieri presenti nella fascia costiera, in particolar modo nei comuni di Pizzo, Tropei, Abriatico, Ricadi, quindi anche Capovaticano e Iopolo, dai quali sono emerse parecchie irregolarità. Sono state individuate ben 12 aziende che utilizzavano lavoratori in nero, ne sono stati scoperti ben 18. Inoltre, i loro titolari sono stati deferiti all'autorità giudiziaria e ancora, sono state commisurate sanzioni amministrative per l'impiego di questi lavoratori non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria per un importo complessivo di 54.000 euro. E come se non bastasse, gli sono state contestate violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, dall'omessa visita medica di donietà alla mancata formazione dei lavoratori, per un importo complessivo di 102.000 euro. Oltre all'omessa redazione del documento di valutazione del rischio, del piano operativo di sicurezza, del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio, l'assenza di segnalazione per la viabilità di cantiere, ponteggi, parapetti, cavalletti non conformi. Quadro decisamente preoccupante che ha costretto alla totale sospensione dei lavori in ben quattro cantieri.